Buongiorno Presidente, insieme alla dirigenza stamattina mi ha invitata a stare un attimino con voi per due motivi. Il primo perché questa è una settimana straordinaria, il primo perché partite voi e farete, io mi auguro, cose importanti e belle per il mondo di Proccio, per le vostre aspettative, per i vostri genitori e per tutti. E poi perché c'è una settimana intensa di grande calcio dove l'Italia si gioca tutto e voi farete il tifo, domenica sarete qua, spero, ma già da domani voi tiferete per le buone sorte. Quindi ovviamente di questo io ve ne volevo dare atti, vi volevo salutare, vi volevo licitare, darvi un forte, sincero, in bocca al lupo. Come l'anno scorso siete ritornati, vittoriosi, quest'anno partecipate intensamente, ma soprattutto, vincente, perché altri venti, c'è Stasfizzi, però altri venti che comunque nei nostri cuori. Quindi buona giornata e buon viaggio.